In un terreno ben nascosto tra la vegetazione dei boschi casentinesi coltivava marijuana, ma adesso è stata scoperta ed arrestata dai carabinieri. Nei guai è così finita una donna della vallata, proprietaria dell'appezzamento di terra che, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe coltivato personalmente le piante di cannabis. La piantagione è stata scoperta nei giorni scorsi, in seguito ad alcuni controlli svolti dai militari dell'arma sulle strade di campagna che da Bibiena portano alla Verna. Qui i carabinieri hanno fermato una trentenne di prato trovata in possesso di pochi grammi di marijuana per uso personale. I militari hanno comunque deciso di approfondire le indagini nella zona e nel bel mezzo del bosco, nascosta tra la vegetazione, hanno trovato la coltivazione. In tutto erano presenti 17 piante di cannabis di varia metratura. L'accusa, oltre che di coltivazione e anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La successiva perquisizione domiciliare ha infatti permesso di trovare diverse quantità di marijuana già confezionate.